Il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni ha deliberato una serie di importanti iniziative di sostegno al tessuto socio-economico del territorio. Per far fronte alla grave crisi che si è determinata in seguito all'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, le aziende concessionarie del marchio del parco dovranno realizzare circa 5.000 cesti dell'accoglienza del parco che verranno offerti ad altrettante famiglie che sceglieranno il territorio del Cilento, Vallodidiano e Alburni come meta delle loro vacanze. L'ente finanzierà l'acquisto dei menù della dieta mediterranea in omaggio ad altrettanti turisti. Gli agricoltori custodi invece avranno il compito di preservare e recuperare le antiche coltivazioni tipiche dell'area parco. Incentivi economici anche per gli istituti scolastici che elaboreranno progetti di didattica all'aperto da svolgere nei luoghi più rappresentativi dell'area protetta. Varate anche misure di sostegno per le associazioni di protezione civile che presenteranno la loro opera nel settore della prevenzione degli incendi e lungo la fascia costiera nella difesa della flora dunale. Le misure a supporto degli esercenti di attività di noleggio e locazione natanti da diporto e trasporto passeggeri prevedono incentivi economici per ridurre le emissioni inquinanti dei motori con l'obiettivo di migliorare e preservare la qualità delle acque marine nella nostra fascia costiera. Sono previste iniziative a sostegno delle agenzie di trasporto operanti nel territorio del parco. Alle agenzie di viaggio, invece, ai tour operator sono destinati gli incentivi economici per favorire il soggiorno di turisti nelle aree interne. Previste inoltre 100 borse di studio per 100 giovani professionisti che elaboreranno progetti in linea con le finalità di valorizzazione, tutela e promozione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano, Alburni. Destinati anche fondi per fronteggiare l'emergenza cinghiali attraverso la realizzazione di recinzioni elettrificate per la tutela dei campi coltivati. Nella stessa delibera è previsto anche l'aumento del numero dei sele controllori. Sarà organizzato anche un concorso di fotografia naturalistica, un concorso per il miglior spot video dell'area protetta e un concorso di estemporanea di pittura. Previste anche azioni di comunicazione nazionale e territoriale per promuovere un turismo bello e sicuro nel parco. Le misure varate vanno nella direzione di un parco che mostra la sua dimensione umana di vicinanza e solidarietà alla comunità residente, intervenendo sui bisogni e le necessità del quotidiano, ha commentato il presidente Tommaso Pellegrino. Nello stesso tempo, attraverso queste iniziative vogliamo valorizzare e promuovere il nostro territorio per contribuire alla ripresa del tessuto economico.